Come funziona una livella ad acqua col principio dei vasi comunicanti. Salve amici! In questo video andremo a vedere come funziona una livella ad acqua e tenteremo di spiegare il concetto di funzionamento attraverso il principio dei vasi comunicanti e di come ci torna utile nell'impiego del fai-da-te ed in alcune situazioni particolari. La legge di Stevino, o meglio conosciuta come il principio dei vasi comunicanti, recita così, è il principio fisico secondo il quale un liquido contenuto in due o più contenitori comunicanti tra loro, in presenza di gravità, raggiunge lo stesso livello, originando un'unica superficie equipotenziale. In sostanza, ci dimostra matematicamente che il livello di un liquido, in presenza dell'azione gravitazionale della Terra, tende a posizionarsi e a livellarsi sempre alla stessa altezza, cercando di continuo un equilibrio. Mi spiego meglio. Se versiamo velocemente dell'acqua o qualsiasi altro liquido in una bottiglia, noteremo che dopo un moto agitatorio iniziale, l'acqua per effetto dell'azione gravitazionale tenderà a stabilizzarsi e livellarsi. Noterete che la superficie dell'acqua è perfettamente livellata in piano alla stessa altezza in un qualsiasi punto. Provando ad inclinare la bottiglia in qualsiasi angolo, noterete che l'acqua tende sempre ad autolivellarsi e a rimanere perfettamente perpendicolare all'azione gravitazionale. Volendo fare degli esempi, e ragionando per logica, se riempiamo una bottiglia di acqua fino all'orlo e successivamente la perforiamo al centro, è ovvio che per effetto gravitazionale vedremo l'acqua cominciare a fuori uscire fino al raggiungimento del livello del foro così da completare il suo equilibrio. Sempre ragionando per logica, se a questo foro inseriamo un tubo per collegare la nostra bottiglia ad un altro contenitore, si avrà un decorso del fluido fino a quando l'acqua non si porterà allo stesso livello e fino a quando non avrà raggiunto il suo equilibrio. Possiamo anche avere una successione di contenitori di diversa forma. Finché saranno comunicanti tra loro, il liquido si porterà sempre allo stesso livello. Questo equilibrio viene detto idrostatico e la superficie dell'acqua viene detta Superficie Equipotenziale Andando a leggere Wikipedia ci dice che Mentre la formulazione tradizionale del principio vale soltanto nel caso di campo gravitazionale costante in intensità e direzione, approssimazione valida per piccole regioni sulla superficie terrestre, la formulazione avanzata vale qualunque sia l'espressione del campo gravitazionale e su regioni di qualunque grandezza, anche sull'intera superficie della Terra. Essa si può utilizzare per dimostrare che, trascurando l'effetto delle maree, del moto ondoso, eccetera, la superficie degli oceani coincide con il geoide. Da questa teoria possiamo dire che il livello zero del mare è uguale sul tutto il pianeta e di conseguenza viene preso come punto di riferimento unico per indicare le quote in altezza, quando, per esempio, si dice che un aereo sorvola la zona a 3.000 metri di altezza. Si intende dal livello superficiale del mare che conta quota zero. Ma non solo! Questo principio permette anche alla realizzazione di uno strumento di misura chiamato livella ad acqua. Sempre Wikipedia lo definisce uno strumento molto semplice e di grande precisione, atto a porre due o più punti allo stesso livello orizzontale. Costituito da un tubo flessibile alle cui estremità sono collegate due ampolle cilindriche trasparenti tenute verticali, riempiendo d'acqua il sistema fino a vedere il livello salire a metà delle ampolle, è possibile rilevare i riferimenti. Passiamo alla dimostrazione della messa in pratica della livella ad acqua. In commercio si possono trovare di svariate lunghezze, oppure la possiamo ricavare da un semplice tubo d'acqua trasparente. Punto primo, dobbiamo riempire d'acqua il tubo, evitando la formazione di bolle d'aria. Un imbuto può aiutarci, oppure possiamo attingere l'acqua da un secchio, aspirando il liquido dalla parte opposta del tubo, l'importante è creare un dislivello posizionando il contenitore ad un livello più alto. Le due estremità del tubo non devono essere riempite d'acqua fino all'orlo. Deve esserci la giusta quantità di vuoto per permettere il liquido di alzarsi e abbassarsi senza fuoriuscire. Riempito il tubo d'acqua, portiamo a pari le due estremità e segniamo sul tubo stesso il punto zero, dove i due livelli delle due estremità collimano perfettamente. Abbiamo appena resettato la livella. Questi saranno i nostri riferimenti che ci indicheranno quando il livello sarà in pari rispetto alla superficie. Se invece avete acquistato la livella con le ampolle in dotazione, il processo di riempimento è sempre lo stesso. Unica differenza. Vi troverete i riferimenti già segnati con una gradazione di numeri. Sono di due tipi. Una con lo zero al centro oppure una con una scala che va da zero a quindici. In questo ultimo caso, per comodità, conviene usare il 10 come il punto zero di riferimento. Notate bene che con le ampolle dovrete riempirle con la giusta quantità di acqua per far coincidere a misura il livello. Resettata la nostra livella, procediamo con la misurazione sul campo. Presumiamo di voler misurare un metro da terra e di riportare questa stessa misura su tutti i punti. Si misura al punto di riferimento un metro e si segna sul muro. Si fa collimare il punto zero del nostro tubo o della ampolla al punto segnato e si fissa. Dall'altro capo è facilissimo. Basta alzare il tubo o l'ampolla fino a far coincidere la linea del liquido col punto zero segnato sul tubo o sull'ampolla. Riportando sul muro un'attacca coincidente alla linea zero del tubo e dell'acqua sarà la misura esatta presa dall'altra parte. A questo punto possiamo livellare il suolo per avere la stessa altezza in tutti i punti oppure possiamo ricavare la pendenza del pavimento. Cliccando sul link qui in alto potete vedere uno short che vi mostra come costruirne una. Concludiamo affermando che il principio dei vasi comunicanti ha impiego in molte altre applicazioni dell'ingegneria ad esempio nel trasporto dell'acquedotto o nella costruzione di bacini idrici per la produzione di energia elettrica e così via. Ma non voglio entrare nel dettaglio non vorrei mai sostituirmi al grande team di Geopop volevo solo togliere qualche curiosità in merito e far comprendere meglio come funziona una livella ad acqua. Un vostro gradito like ci incoraggia ad andare avanti e la vostra iscrizione al canale ci aiuta ad accrescere motivandoci a realizzare altri video di interesse comune. Grazie per la visione.